Per contenere le nostre esche durante le fasi di giornate calde, oppure per non farle sudare, per evitare naturalmente che magari i begatini, soprattutto che è un'esca molto delicata con il sole, possano morire, abbiamo creato questo set di cestelli che sono microforati sia lateralmente che in maniera inferiore e soprattutto hanno un vuoto, in modo che l'aria possa girare. Questo consente al begatino di non sudare e di non morire. Prodotto in sei misure, dalla più piccola, dove possiamo mettere magari le nostre esche colorate, dove magari abbiamo delle esche piccoline come il begatino, il raparino o i micropenchi, fino a quella più grande che questi cestelli qua possono essere, anzi sono estremamente indicate per la pesca in mare. Ve lo dico perché naturalmente in mare dove c'è il discorso di salsedine che il begatino può naturalmente leggermente bagnarsi, soprattutto in una pesca di fase notturna, in questo modo qui il begatino continuerà a muoversi senza alcun problema. Un piccolo trucco, ve lo dico perché io l'ho già usato tantissime volte. Vi voglio svelare un trucco che uso tantissimo. Questo cestello qua è perfetto per bagnare le vostre pellet, per fare magari nel method o nel pellet feeder. Mettete le vostre pellet, le mettete nell'acqua, sommergete per un minuto, due, tre, quattro, quello che avete necessità, poi tirate fuori il vostro cestello e le mettete a asciugare. Avete la possibilità di muoverle in maniera che prendano sempre un po' d'aria e fargli perdere tutta l'acqua in eccesso. Verranno fuori delle pellet perfette, che è una cosa incredibile. Ve lo dico, è un piccolo trucco che ho imparato sulla mia pelle e ve lo voglio condividere con voi. Provate! Grazie!